Buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del MPL & UTP Forum per le fonti TV. Io sono Massimo Famularo, Head of Italian MPLs per Distress Technologies e sarò il chairman di questa giornata. Oggi cercheremo di dare un senso a quello che è il puzzle più importante del mercato dei crediti deteriorati ed è costituito essenzialmente dalle esposizioni unlikely to pay, ossia quella particolare tipologia di crediti che si colloca a metà strada fra i crediti pienamente esigibili, detti in italiano in bonus o performing con terminologia anglosassone e i crediti invece che sono essenzialmente non performing o bad loans con terminologia anglosassone. Nel 2020 essenzialmente abbiamo tutti sperimentato una tragica discontinuità in quello che era essenzialmente il corso del ciclo economico, una discontinuità che secondo il consenso unanime in effetti non ha ancora manifestato pienamente i propri effetti, in particolar modo con riferimento al mercato dei crediti deteriorati a causa di una serie di misure di intervento straordinarie quali moratorie e garanzie sui finanziamenti concessi dallo Stato. Tuttavia nel 2021 molte di queste misure verranno a scadenza, in particolare nei prossimi giorni avremo la scadenza della moratoria per il blocco dei licenziamenti e quindi esiste un consenso altrettanto unanime che per quanto riguarda l'anno in corso ci sarà un consistente numero di nuovi flussi di esposizioni deteriorate, numero che secondo alcune stime potrebbe portare nel corso dell'anno o fra il principio dell'anno prossimo il totale dei deteriorati alla cifra monster di 385 miliardi che potrebbe essere il picco storico superiore anche a quello registrato nel 2015 che era sostanzialmente la fase più estrema dell'ultima crisi. Attualmente noi affrontiamo questa fase di mercato con al governo la personalità di Mario Draghi, un ex banchiere centrale che in un report del G30 coordinato con un altro ex banchiere centrale che è Rudad Ryan, essenzialmente poneva appunto come elemento caratterizzante questa fase di uscita dalla fase essenzialmente di crisi legata alla pandemia con la distinzione fra quelle che sono le situazioni di temporanea illiquidità ossia quei crediti che è possibile riportare in bonus ossia riportare in uno stato di salute e quelli che dovranno necessariamente essere in qualche modo liquidati. Dunque per come abbiamo visto il mercato dei crediti deteriorati soprattutto con riferimento all'Italia ha conosciuto una serie di importanti operazioni che hanno visto transazioni specialmente per la componente più deteriorata di questi crediti legata ai bad loans per circa 200 miliardi nel trimestre tra il 2017 e il 2019. Il trend prevedeva una stabilizzazione e quindi una sostanziale nuova stagione riguardante l'esposizione al likely to pay con riferimento al 2020 che è l'anno nel quale è avvenuta la discontinuità che noi tutti abbiamo tragicamente conosciuto e che purtroppo considerando anche i recentissimi eventi di ulteriore lockdown duro che abbiamo sperimentato nelle ultime settimane è ancora in essere. E dunque con riferimento a quest'anno possiamo dire che innanzitutto il mercato dei crediti deteriorati come sistema Italia, come industria del credit management ha reagito piuttosto positivamente ai caratteri eccezionali della crisi. È riuscita nel corso dell'anno scorso a mantenere un volume di transazioni per i deteriorati essenzialmente in linea con quelli dell'anno precedente e prevede quest'anno chiaramente di affrontare quella che è essenzialmente un po' la sfida che cercheremo di ripercorrere anche all'interno di questa giornata, ossia quella delle esposizioni al likely to pay. Quello che va in qualche modo individuato con riferimento a queste tipologie di crediti è innanzitutto la necessità di competenze specifiche per la gestione e talvolta quelle che vengono definite con terminologia anglosassone competenze di turnaround management, ossia capacità di ristrutturazione aziendale, ma anche quella che è l'apporto di nuova finanza per tutte le situazioni che in qualche modo versano esclusivamente in uno stato di temporanea illiquidità. Per concludere, quello che è stato un po' il filo conduttore di questa giornata sarà appunto il tentativo di cercare di spiegare quali sono le criticità che caratterizzano la gestione di questa tipologia di crediti, come è possibile cercare di distinguere i casi di conclamata insolvenza da quelli di temporanea illiquidità e di, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche differenziali di questa tipologia di asset class rispetto alla più tradizionale gestione delle quelle che, diciamo, nel gergo bancario italiano si chiamano sofferenze, ossia i crediti per i quali è necessario effettuare esclusivamente un'attività recuperatoria e di liquidazione delle garanzie. Non voglio rubare altro tempo all'evento di questa giornata, auguro a tutti una buona visione e lascio lo spazio per la prima tavola rotonda. Grazie a tutti.